L'emergenza rifiuti in campagna è stato uno dei temi scottanti del 2010 e nell'attendere il nuovo anno ci sembra doveroso tirare le somme su quello che non vorremmo vedere nel 2011. Le immagini che vi stiamo mostrando ne sono l'esempio lampante. Il nostro augurio per il nuovo anno è che il buonsenso torni a farla da padrone e che ognuno di noi nel suo piccolo faccia la sua parte, così che simili scene come quelle che vi stiamo mostrando non saremo più costretti a vederle in giro. Le immagini in questione si riferiscono all'ex di scarica del comune di Sant'Arsenio in località Difesa, dove sotto il cartello vietato sversare rifiuti giacciono disordinate decine di buste dell'immondizia alla facile merce di cani e gatti che per istinto rompono gli involucri in cerca di cibo. I rifiuti quindi contenuti nelle buste, talvolta addirittura riposti con il criterio della differenziata, vengono dispersi tutto intorno creando il triste scenario di queste immagini. Scenario che abbiamo preso ad esempio per ricordarne tanti altri visti in questo 2010 e che ci auguriamo di lasciarli alle spalle.